La pace sia con voi, compagni. Grazie a Dio è già venerdì. Oggi vi porto 40 immagini anarchisti che devi vedere prima di morire, parte 1. Cominciamo. Una militante anarchista spagnola durante la guerra civile. 1936. Marinai della corazzata Petropavorsk accanto alla loro bandiera. 1912. La classe operaia, combattendo contro il sistema, Francia. 1886. Una foto di gruppo dell'esercito nero. 1918. Propaganda anarchista in Francia. 1969. La prima pagina di un quotidiano francese che mostra l'arresto di Sante Caserio. 1894. Francesc Ferrer guardia incarcerato per il tentato omicidio del re Alfonso Xixi. 1907. Il funerale di Owil. 1915. Simon Caretnik, Nestor Macno F. Dirschkuss. 1917. Vietato proibire, frase che è entrata nella storia dell'anarchismo in Francia. 1973. Congresso della FAUD, Germania. 1922. Kimi Bayin, capo dell'H.M.Y. 1921. Il momento esatto in cui è morto Federico Borel Garcia. 1936. Il ritratto robotico per la ricerca e cattura di Sante Caserio. 1894. Militanti kurdi in Siria durante la guerra civile. 2018. La foto segnaletica di Luigi Lucchini. 1898. Propaganda anarchista negli Stati Uniti. 2019. Pavel Dibanko e Nestor Macno. 1918. Formazione delle donne kurde in Rojava. 2017. Una scena della rivoluzione studentesca a Seoul. 1987. Ose buonaventura nella sua gioventù. 1919. Manifestazione della FAUD, Argentina. 1915. Riccardo Flores Magone e i suoi compagni. 1910. Proteste a Parigi per l'esecuzione di Francesc Ferrer Guardia. 1909. Militanti kurdi in Marcia a Damasco. 2017. Michail Bakunin e la sua gioventù. 1841. italiani a sostegno del kurdistan contro la Turchia. 2019. Anarchici messicani durante la ribellione della bassa California. 1911. Propaganda anarchista in Spagna. 1940. David Graver, lo scrittore anarchico più famoso dei Stati Uniti. 2018. Membri dell'H.M.Y., tra cui Kimi Bayin. 1928. Propaganda anarchista in Francia. 1968. 1968. Piotr Akrobotkin, fondatore dell'anarco-comunismo. 1875. L'ultima fotografia di Pietro Gori. 1911. Anarchici bielorussi durante la manifestazione dell'1 maggio contro Alexander Lukashenko. 2020. Militanti anarchici durante la rivoluzione sociale. 1936. L'ultima fotografia di Salvador Puigantic. 1974. Alexander Berkman durante un discorso pubblico. 1914. 1914. Un gruppo di combattenti kurdi in Royala. 2015. 1915. Bene. Siamo arrivati alla fine del video, un grande saluto a tutti e arrivederci alla prossima puntata. benedizioni. 1915. 2015. 2015. 2015. 2015. 2115. 2316. 2316. 2517. 2619. 2519. 2619. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie per la visione!